La ricostruzione dell'Aquila non si arresta come non lo fa quella dei comuni del cratere del centro Italia, partita sicuramente in ritardo quest'ultima. Il governo, tirato per la giacchetta dalle istituzioni locali e dai territori molte volte, non si è sottratto alle proprie responsabilità e Conte, in videoconferenza, ha annunciato provvedimenti importanti. Il rifinanziamento della ricostruzione aquilana del 2009, con 2,75 miliardi nella finanziaria, ma non solo, perché ci saranno fondi anche per il cratere 2016-2017 per 1,6 miliardi, con un confronto importante, ha ribadito il commissario per la ricostruzione del terremoto del centro Italia, Giovanni Legnini, sulla sovrapposizione dei crateri. Io che sono stato testimone nel passato, testimone anche protagonista della conquista dentro i vincoli di bilancio, faticosa delle risorse finanziarie per garantire la continuità della ricostruzione, posso dire che il governo ha mantenuto la parola e non c'è bisogno di ulteriori pressioni o addirittura proteste per ottenere quello che è un diritto delle aree colpite dal sisma, di avere un arco temporale lungo davanti di programmazione delle risorse finanziarie. E questo è un fatto molto positivo per tutto il centro Italia, cratere del 2009 e cratere del 2016. Ecco, rimane un po' la voglia di creare, possiamo definirla, una cabina di regia unica che agisca sempre allo stesso modo per tutti i terremoti. Questo è un po' il sogno, l'obiettivo? Sì, è così e noi stiamo facendo passi avanti notevoli perché anche in virtù dell'ottimo rapporto che vi è tra me e il capo della struttura tecnica di missione dell'Aquila, l'ingegner Curcio, che ha anche una responsabilità di coordinamento per conto della presenza del Consiglio, anche in virtù di questo e del lavoro quotidiano che facciamo, noi stiamo provando a spingere verso questo modello di governance unitaria delle ricostruzioni. Lei prima faceva riferimento al recovery fund, innanzitutto dobbiamo e ci stiamo lavorando molto in questi giorni per costruire le schede, le ipotesi progettuali che il governo sottoporrà all'Unione Europea. La Repubblica garantisce, ha il dovere di garantire la ricostruzione, ma non basta ricostruire le mura e ridare un tetto ai cittadini, che ripeto è un dovere, occorre che per queste aree così colpite ci siano chance di vita, di lavoro, tornino ad essere attrattive. In secondo luogo la semplificazione, semplificazione che è in atto, per fortuna, per quel che riguarda il sisma del centro Italia, io ho adottato misure molto risolute.